C'era una volta una principessa che faceva sognare il suo popolo, era la nonna e questi sono gli articoli su di lei, questi invece sono gli articoli di mamma, questo è l'articolo su di me. Per portare oggi una principessa in prima pagina c'è un solo modo, la principessa Letizia deve innamorarsi di un disoccupato povero, ignorante, grezzo e volgare. Dove lo trovo un povero? Lo trova, lo trova. Come vive? A scrocco. Non la prima, la seconda, giro verso l'anno, bene così, boh, sono arrivato, grazie. Ma disse che è? Sono il ciambellaro di corte, la principessa Letizia vi invita a cena. Ti posso dare un bacio? Principi, io la faccio male. No, non lo voglio dire, vi faccio vedere, voi vi canguri a motore. Quelli là proprio fanno, oh, fanno, 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 fanno. Tu sai montare un cavallo? Cioè se me lo dai ci hanno montato è meglio perché se no ho finito che mi imbroglio con i pezzi. È un flagello di Dio, non lo voglio nemmeno, mi ha fidanzato un filtro. Me ne occuperò io e trasformerò la bestia in diciamo un principe abusivo. Andò! Vedi amici si vedono nella cattiva ma soprattutto nella buona sorte. Ti voglio presentare mia cugina Jessica Guagliaruno. Buongiorno. Piacere. No scusate l'ultima volta s'hanno fottuto braccialette. È un'ignoranza stellare. Aiutami a farla innamorare. Buona luna. Tu sei un'oscena. E tanzo è trattato. Ma quello! Va bene?